Bruno Angelini, la voce di Roma. Adesso, al di là delle notizie di cronaca che ho pubblicato, ce n'è una che è esordiente, che penso sia affascinante perché io sono un amante degli animali, per carità. Il cane è amante dell'uomo e della donna. Ma pensate bene, una città come Roma con 700.000 cani che defedano un netto a cane, noi ci troviamo in una situazione marciapetale di 700 tonnellate, tutti i giorni, per 365 giorni, che vengono sparsi sulla Roma dei Cesari, sulla Roma dei Cesari, i papi, degli eroi della Repubblica Romana, ragazzi miei, o signori miei, o amici miei, voglio bene. 700 tonnellate l'anno di merda. Ah no, scusate, 700, ho fatto i conti di mattimane, 700 tonnellate di merda al giorno che ci troviamo. Beh, voglio bene Bruno Angelini, la voce di Roma. Io voglio bene animali, c'eravamo di tre, quattro, quattro cani ho avuto, per carità di Dio, insomma, dai. Sto cacchio di sacchetto, portatevi un po' dietro perché mannaggia con una sciacca, dice porta bene, porta bene la minchia. Bruno Angelini, la voce di Roma.